buongiorno buongiorno da formazione turismo da adriano siamo con monica cervi di evolution travel buongiorno monica adriano buongiorno grazie dell'invito intanto grazie grazie a te per aver accettato l'invito no dicevo siamo versione 2024 la nostra prima video intervista il 2024 e da dove da dove ci ci rispondi in questo momento ti rispondo da reggio emilia quindi in emilia romagna il freddo si inizia a sentire e quindi insomma ricordo delle vacanze dei viaggi ormai è già è già terminato almeno dei viaggi estivi insomma adesso ci racconterai di quali viaggi ti occupi no lo dicevi comunque sì comunque dei viaggi in mete calda ecco sì 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 è partito il turismo invernale assolutamente va bene ma infatti noi adesso siamo qui proprio per scoprire di quali mete e di quali viaggi si occupa monica allora io inizierei subito cosa facevi prima di diventare consulente di viaggio online e come mai hai fatto hai fatto questa scelta allora prima di diventare consulente di viaggio online per evolution lavoravo nell'ufficio personale di una grossa azienda alimentare e con un ruolo abbastanza importante sono stata la per più di dieci anni però era arrivato il momento di cambiare è arrivato il momento di cambiare di cambiare vita cambiare lavoro e quindi siccome io nasco come viaggiatrice in primis e ovviamente una gran passione dei viaggi e per i viaggi detto perché non provare a trasformare questa passione in un lavoro perché poi chiaramente un conto è farlo per diletto per se stessi un conto è farlo come professione quindi gli step da fare sono tanti e importanti però mi sono voluta dare questa opportunità e ora appunto faccio la consulente viaggi evolution quindi diciamo che è stata una svolta totale nella nella mia vita lavorativa da quanto tempo lavori con evolution travel ormai sono otto anni perché sono entrato in evolution travel nel 2016 quindi quest'anno festeggio l'ottavo compleanno ecco quindi è già qualche ammetto che insomma pratico la professione di consulente eh sì otto anni sono un'esperienza di tutto di tutto rispetto e perché tra tanti network hai scelto proprio evolution travel ma ti dirò eh tra i tanti network ho scelto evolution travel perché intanto il primo impatto che ho avuto con le persone che mi hanno contattato sicuramente è stato un impatto positivo hanno saputo diciamo sviscerare tutti i miei dubbi e perplessità perché come ben sai quando uno comunque intraprende un lavoro nuovo un percorso nuovo tra l'altro eh non più da dipendente ma come libero professionista i dubbi sono veramente tantissimi e quindi hanno saputo diciamo accompagnarmi in questo percorso e soprattutto ho capito che ehm c'è una realtà solida e strutturata dietro a un network e quindi seppur si lavora online c'è tutto un organigramma e persone con delle grandi competenze che ci aiutano nel nostro lavoro quindi questo è quello che mi ha fatto un po' propendere per evolution travel perché mi ha dato proprio la sensazione di essere una realtà dove trovare comunque tante risorse eh umane quindi persone che potessero aiutarmi nello svolgere nell'iniziare questo lavoro e eh comunque una struttura ben organizzata e appunto solida alle spalle quindi non imbattersi in qualcosa che ancora non era definito di suo quindi sicuramente questo mi ha dato tanta sicurezza e tante certezze ecco Parliamo proprio di questo quali vantaggi offre evolution travel a chi decide di diventare consulente di viaggio online? Beh come dicevo sicuramente evolution travel dà la possibilità di fare questo lavoro anche a chi non è del settore come dicevo io vengo da tutt'altro eh tutt'altra esperienza lavorativa e evolution travel ti mette proprio a disposizione tutti gli strumenti per fare questo lavoro in primis la formazione che secondo me è il punto cardinal di eh evolution perché eh grazie alla formazione costante veramente molto varia eh ti puoi eh formare puoi imparare tantissimi concetti sotto diversi eh punti di vista quindi ti permette di eh ampliare le tue conoscenze proprio professionali da utilizzare poi nel nostro lavoro quotidiano ehm quindi questo sicuramente è il primo aspetto. L'altro aspetto non meno rilevante è quello comunque di avere eh delle persone eh che ti aiutano e ti sostengono in qualsiasi momento di 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 crisi che può essere appunto un momento no in un momento difficile nella gestione eh dei clienti soprattutto all'inizio e questo perché comunque la struttura di di evolution travel è organizzata in diciamo gruppi quindi eh sono dei gruppi di persone che fanno riferimento a un capogruppo in questo caso che comunque ha formazione, esperienza, professionalità e quant'altro che ti può aiutare in qualsiasi momento quindi comunque la forza del network è evidente in qualsiasi momento. La formazione gioca un ruolo primario in evolution travel perché a tuo avviso fa la differenza rispetto ad altre realtà simili? Beh sicuramente la formazione ci permette di passare ed essere visti come dei professionisti quello che appunto noi dobbiamo essere nei confronti di tutti i nostri clienti eh perché come dicevo noi stiamo comunque svolgendo un ruolo di consulente quindi non possiamo improvvisarci senza avere le nozioni tecniche e basilari di questo lavoro. Eh io in primis che faccio anche la tutor per i nuovi eh consulenti diciamo appena entrati ci tengo molto affinché eh vadano proprio a ehm imparare e a formarsi perché tutto questo ci permette di lavorare meglio sicuramente di lavorare con più tranquillità e serenità noi e dare un comunque dei servizi a un prodotto ben strutturato per il cliente quindi sicuramente la formazione è alla base di tutto. Veniamo alla parte appunto dei viaggi raccontaci che ruolo ricopri all'interno del network e appunto di quali metodi eh ti occupi? Allora eh proprio l'anno scorso eh sono diventata responsabile di due prodotti eh molto diversi tra di loro. Uno è il prodotto Arabia Saudita che chiaramente è una destinazione eh molto nuova eh per il turismo perché appunto ha aperto recentemente quindi siamo ancora un po' agli albori ehm come come turismo e mi piace eh giocare diciamo e puntare su questa destinazione proprio perché ha tantissime ehm possibilità e eh sicuramente nel futuro avrà uno sviluppo molto molto importante. Eh l'altra meta è eh New York che è una città che sicuramente essendo così eh ampia così ehm variegata e che offre veramente tantissime attività ed esperienze aveva sicuramente bisogno eh di avere un posto specifico e dedicato all'interno del network e quindi diciamo essere estrapolata da tutto il resto degli Stati Uniti per mh avere l'attenzione che merita. Quindi queste sono le due mete eh di cui mi occupo principalmente anche appunto come eh responsabile all'interno del network dei dei prodotti come eh promotore di riferimento eh poi chiaramente tanti sono i viaggi che si vendono non solo legati a queste destinazioni ecco. Le prospettive eh di crescita professionale che offre Evolution Travel ti hanno hanno contribuito insomma eh a a farti scegliere questo network? Beh sicuramente sì perché io personalmente ecco diciamo sono abbastanza ambizioso comunque se voglio intraprendere una determinata strada e per un determinato percorso lavorativo chiaramente cerco di puntare sempre come dire al massimo no? O comunque avere dei risultati ehm sempre più soddisfacenti e avere la possibilità di crescere sia a livello appunto personale che professionale quindi anche questa possibilità col tempo chiaramente e e e con le conoscenze come dicevamo prima eh che Evolution Travel ti permette di crescere e di eh migliorare eh la tua posizione sicuramente è un un punto da considerare per potersi evolvere nel corso del tempo. Allora parliamo di uno dei vantaggi più grandi insomma di questa professione che è la flessibilità eh raccontaci se tu svolgi l'attività di consulente viaggio online part time o full time o e comunque qual è la giornata di Monica come organizzi eh tutta la tua giornata in base anche agli altri impegni? eh allora lavoro full time come consulente e chiaramente la flessibilità mi permette di gestire le giornate come meglio eh ritengo a seconda chiaramente del carico di lavoro o di altri impegni eh chiaramente avendo anche due figli devo gestire un po' il tutto quindi incastrare la vita familiare con la vita lavorativa eh e Evolution Travel ti permette proprio di fare questo. Diciamo che la mia giornata lavorativa parte inizialmente ehm guardando le mail quindi guardando tutto quello che è da eh fare diciamo oppure è in sospeso eh ma che comunque deve essere posata a termine in quella giornata quindi chiaramente dare un ordine di priorità e eh capire un po' qual è la tabella di marcia ehm successivamente inizio a mettere mano chiaramente a ehm le proposte da fare ai clienti quindi comunque andare a cercare l'itinerario migliore piuttosto che guardare quali sono i fornitori ottimali quindi insomma mi dedico proprio alla costruzione diciamo delle proposte dei preventivi per i clienti e questo è quello che mi occupa la maggior parte del della mattinata diciamo mi dedico anche comunque a tutto quello che sono le le domande e gli aiuti che possono arrivare dai consulenti che lavorano assieme a me appunto sui prodotti di cui sono eh referente quindi chiaramente eh devo sostenerli e aiutarli eh ad essere comunque sempre presente perché come diciamo prima la forza del network è questa quindi comunque una parte della mia della mia giornata è dedicata sicuramente a loro oltre a chiaramente fare anche con loro formazione specifica eh sulle destinazioni eh come ti dicevo ehm ho anche il ruolo di tutor all'interno delle eh di Evolution Travel quindi a seconda appunto delle settimane delle giornate se sono previsti dei tutoraggi e dei coaching chiaramente il tempo eh è dedicato anche a questa attività eh non scordiamoci poi che durante diciamo il pomeriggio sera di solito concentro un po' tutte le telefonate col cliente perché solitamente le persone non lavorano in quell'orario comunque sono un po' più disponibili e quindi la mia serata si conclude con tutta una serie di chiamate telefoniche o prime telefonate o riscontri quindi insomma tutto quello che è la comunicazione col cliente stesso ecco. Comunque parlare di giornate altamente intense insomma. Assolutamente sì. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Ma i miei prossimi obiettivi come ti dicevo vorrei sviluppare sicuramente molto eh la destinazione dell'Arabia Saudita che è ancora un po' come dicevamo eh in fasce perché è comunque poco conosciuta perché è proprio nuova quindi vorrei cercare di far conoscere eh questa destinazione e quindi avere anche poi dei risultati a livello di di vendite chiaramente e di proposte eh sicuramente mi vorrò dedicare ancora maggiormente a quello che può essere la la formazione verso gli altri consulenti perché comunque un aspetto come dicevo secondo me molto importante e eh avere qualcuno che riesce a formati e darti delle informazioni necessarie fa veramente la differenza quindi ritengo che sia un'attività eh utile anche da fare verso gli altri perché poi è quello che ho ricevuto io eh nei primi anni insomma nei primi miei passi durante questo percorso. A che consiglieresti di diventare consulente di viaggi online? Ma guarda non c'è sinceramente una persona specifica a cui consigliare di diventare un consulente diciamo che sicuramente deve essere un amante dei viaggi perché altrimenti non faresti mai questo lavoro quindi sicuramente una gran passione per i viaggi. Detto questo una persona che vuole cambiare vita e quindi magari è stanca di avere un una vita da da dipendente, una vita dettata dagli orari d'ufficio piuttosto che non avere il tempo per stare con la propria famiglia. Eh quindi sicuramente una persona che comunque ha delle motivazioni eh per voler cambiare vita e e questo porta poi anche ad avere dedizione, voglia di imparare, conoscere e approfondire tutte quelle che sono le varie conoscenze per fare questo un lavoro e non un semplice gioco perché all'inizio magari si può prendere eh un po' così eh sotto sotto piede diciamo nel senso che magari uno non gli dà la giusta importanza ma per ottenere chiaramente dei risultati bisogna sicuramente rimboccarsi le maniche eh ma porta poi a delle belle bellissime soddisfazioni ecco. Tu avviso quali sono i requisiti fondamentali per svolgere questa professione? Eh come ti dicevo sicuramente eh la voglia di imparare e la voglia di mettersi un po' in gioco sicuramente ehm bisogna avere un minimo di tempo da dedicare a questa professione perché chiaramente se uno già fa il lavoro a tempo pieno e poi alla famiglia e si dedica dalle dieci a mezzanotte a Evolution Travel magari fa un po' fatica ad avere la concentrazione necessaria piuttosto che l'energia è per lavorare al meglio quindi ehm va bene dedicarci poco tempo ma magari che quel tempo sia comunque eh utile e eh sfruttabile al cento per cento. Poi non ci sono delle caratteristiche particolari perché alla fine come vediamo entrano consulenti sia molto giovani che hanno voglia appunto di magari girare il mondo e lavorare da ogni parte del mondo cosa che Evolution Travel ti permette di fare perché lavorando online eh puoi essere dove vuoi eh oppure persone già di di più grandi quindi comunque che hanno già avuto il loro percorso lavorativo che sono stanche come dicevo e possono e vogliono cambiare totalmente vita ecco. Perché è vantaggioso svolgere la professione eh di consulente viaggio online? Cerchiamo di condensare un po' le cose che ci siamo detti finora. Eh sicuramente in primis è un discorso di costi nel senso che comunque non hai una gestione eh o l'affitto di un locale come può essere un'agenzia su strada piuttosto che l'utenze eh gli arredi o quant'altro quindi sicuramente a livello di costi è molto inferiore rispetto ad avere un negozio improprio ehm e questo insomma male non fa. L'altra cosa è che chiaramente essendo un lavoro online si può come dicevo lavorare ovunque da qualsiasi parte del mondo basta avere una connessione internet. Poi è vero che se sei proprio non so in polinese magari qualche difficoltà col fuso orario però quello è un dettaglio insomma ehm chiaramente poi deciderei appunto di lavorare ovunque tu sia e con gli orari che vuoi tu perché non avendo appunto il cartellino il classico orario d'ufficio eh io potrei anche prediligere di lavorare la sera piuttosto che il mattino ehm e questo me lo me lo permette di fare ecco insomma. In questi anni con un con Evolution Travel eh c'è un episodio a cui sei rimasta legata particolarmente che ci vuoi raccontare un aneddoto un un viaggio in particolare un con un feedback di un cliente insomma uno su tutti. Ma guarda uno su tutti faccio fatica perché sono tante le cose da riguardare sicuramente quelle che mi restano più impresse sono ehm i miei clienti che ormai è da anni che viaggiano con me e che dal primo viaggio sono magari rimasti entusiasti perché sono riuscita a soddisfare le loro richieste i loro desideri ed ora sono diventati praticamente degli amici perché oltre a chiedermi i viaggi a comprare i viaggi comunque ci si sente anche solo per sentire come come stai per augurarsi il buon Natale o altri. Questo secondo me è veramente molto bello e va oltre le soddisfazioni economiche eh chiaramente della vendita del viaggio perché comunque ti dà anche ehm così rilievo a quello che è la tua persona, la tua professionalità, il tuo modo di porti che sicuramente fa la differenza rispetto a a tanti altre altre persone che fanno questo lavoro ecco. Perfetto, grazie Monica. Allora prima di appunto di congedarti per pranzo eh ti faccio l'ultima domanda allora in definitiva quali sono i punti di forza di Evolution Travel eh secondo te? Allora la formazione sicuramente perché è molto ampia, variegata e si trova veramente di tutto e di più sia formazione registrata che formazione fatta di persona eh specifico, più generica, veramente c'è da sbizzarrirsi. Ehm il fatto che comunque è eh una agenzia, tour operator veramente solido, strutturato che ha dietro eh un'organizzazione ben definita e che infatti insomma in tutti questi anni anche durante la pandemia non ha mai smesso di eh lavorare e mh le persone, i colleghi che fanno network e quindi comunque mh avere e poter contare sulla forza di colleghi più esperti eh più capaci o comunque eh avere delle persone attorno a te che ti possono aiutare in tanti modi ecco. Grazie, grazie Monica per il tuo contributo. Grazie a te. E niente, ti ti lasciamo ai tuoi impegni e ringraziamo tutti i nostri video video spettatori e li e diamo appuntamento per la prossima intervista. Ti ringrazio e saluti a tutti. Grazie. Ciao Monica. Ciao. 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 Ciao per tutto. Ciao. Grazie.